Sono ancora molto gravi le condizioni cliniche di Sara Bracci. La 38enne originaria di Fanno rimassa coinvolta in un incidente stradale avvenuto mercoledì lungo la strada provinciale 29 che collega Pianello con Cagli. La giovane stava percorrendo la strada in località Secchiano a bordo della Fiat Panda quando una forfiesta che procedeva nel senso di marcia opposto con a bordo quattro persone invaso l'altra corsia finendo per impattare contro l'auto guidata dalla 38enne. L'impatto è stato violento prima frontale e poi laterale. La ragazza è stata trasportata nell'ambulanza all'ospedale Dorico dove rimane ricoverata in prognosi riservata. Tanti messaggi per lei sui social network. Sara infatti è molto conosciuta nel mondo dell'inogastronomia provinciale essendo ambasciatrice del gusto, sommelier e ideatrice della staffetta del Bianchello. Un percorso attraverso le cantine della provincia di Pesero e Rubino che producono appunto il Bianchello del Metauro Doc. Rimane comunque difficile da stabilire l'esatta dinamica dell'incidente. Quel tratto di strada è conosciuto da molti per essere sdrucciolevole. Mercoledì l'asfalto era molto scivoloso a causa dell'umidità. Secondo i primi rilievi eseguiti dalla polizia stradale, settantenne a bordo della Fiesta ha perso il controllo della vettura provocando lo scontro. A bordo con l'uomo c'erano tre donne di 69, 72 e 78 anni. Una di loro ha riportato un forte trauma facciale dopo un primo ricovero all'ospedale di Pesero e stata trasferita in Ancona. Gli altri feriti invece sono stati ricoverati all'ospedale di Urbino ma non preoccupano le loro condizioni di salute.